E' la persona più furba che abbia mai conosciuto per davvero E anche te non scherzi eh Ciao a tutti bimbi belli bentornati sul mio canale Sesta missione di GTA 4 The Ballad of Gay Tony Siamo ancora con Armando Torres e Enrique Bardas Esattamente come la missione scorsa Corner Kids Dove abbiamo incontrato un praticamente possiamo dirlo falso amico E poi lui se ne è andato a gambe levate E noi abbiamo avuto a che fare con parecchia polizia Vi chiedo intanto di lasciare like al video Iscrivetevi al canale come sempre E noi possiamo tranquillamente andare a Liberty City Ok ci siamo Allora vieni qui vieni qui vieni qui Oh fra Eh fischia domani Fai come gli arbitri con i fuorigiochi Fischiali domani Tariffata si bassissima eh Sette perché Tipo Eramo vicinissimi Ma io sono pigrissimo Comunque Clocking off I love you baby I love you baby Eh qua gli partirebbe uno storcione su un tuo figlio cazzo Dai vi ripete il buzzo dopo La pala al culo sta qua Insomma Cazzo voi Oh oh spenta Troll Poker face Sì andiamo anche a Bohan E percorriamole tutte ste isole Porca puttana Incidente mortale Ok siamo arrivati E mo Ok Ricordo Praticamente Questa missione Più o meno Basic Bisogna fare fuori tutti Fino ad arrivare alla barca Anzi forse neanche Ok Ok Magari non corriamo E non tiriamo fuori armi Vabbè siete se coglione I cazzi tuoi Ma perché mi sei già Se io prendo una direzione Perché te prendi la stessa direzione Perché camminano pestandoti i piedi Perché camminano pestandoti i piedi Ciao Salvini Bello Ok con questa arma è tutto più divertente Avessi fatto le altre missioni con starma qui Mamma mia signori Ok Mamma mia, ma quanti cazzo sono? Oh! Perché non me lo... Ah, perché è mio compagno, ok. Bullshit! Bello! 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 Che sei la persona più furba che abbia mai conosciuto per davvero. E anche te non scherzi, eh. Ora non ti chiedo il 100%, perché tanto me lo darei mai, però... Cioè... Questa è la classe. Fidati di me. Niente barca! Vabbè, ho preso il carico, ok. Va, andate, andate, andate sul luogo del delitto. Che siete in tempo, più che altro. He he he. Ops Ops All I got is my gun, my gun and I'm on though Hey, you got me to bro, don't forget about that Luis, I love you bro, but you part time Uh, boy It keeps going when you are for them rich people Thanks for your help bro Yeah I guess my shooting was more important than my man management skills on this business trip For real, we gonna get paid bro Give us a call ok? Yeah dude, let's hang 86% Solo il tempo Ci ho messo minuto e 24 in più Accidenti Dai La considero una vittoria Che eleganza Nel linguaggio spagnoleggiante Meno male era la lingua sensuale Bene Io qua vi saluto Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vedremo per la missione numero 7 Che sarà Sexy Time Con Yusuf Amir Grazie di tutto ragazzi Alla prossima Bacione d'Avi Bacione d'Avi Bacione d'Avi